Banna Marchi e Stefania Nobile, le televeditrici più famose d'Italia, tornano in tv, tornano in televisione, però non da televenditrici o da teleinbonitrici come qualcuno ha tanticamente detto o meglio dichiarato, ma in qualità o meglio come protagoniste della nuova serie televisiva targata Netflix che si intitola WANNA. Sono in totale 4 gli episodi che sono stati realizzati o meglio compiuti, che sono realizzati per l'appunto attraverso delle testimonianze, delle immagini, ma anche al tempo stesso, diciamo così, degli spessoni video, di più di 100 ore di materiale che è stato raccolto per andare a testimoniare in maniera piuttosto completa, quindi palese, tutti gli eventi che si sono avuti fino ad ora a livello sia fattuale ma anche a livello piuttosto, diciamo così, meticoloso, quindi attento. Un imperio importante, i giorni degli anni 90, quando appunto facevano trasmissioni dove andavano a proporsi al grande pubblico televisivo e tante telefonate che sono arrivate proprio perché le persone credevano molto a ciò che WANNA e la figlia Stefania andavano a dire. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina. Qua c'è da un po' sull'endor, non è rotto, direi.